io dieci anni fa quando tornai dal darfur io dissi guardate che ma anche quando tornai dall'irac dissi guardate che questi sono yacht lo dissi apertamente in pubblico nel senso che erano piccole quando arrivarono gli albanesi con la nave io dissi guardate che questo non è niente sono yacht io che sono dall'altra parte del mondo sono niente paragonata a quello che arriverà quando ero in sudan in darfur conoscevo benissimo chi organizzava i traffici nella capitale vecchia di kartum nella parte vecchia di kartum ed ho sempre riportato a casa mia in italia ho sempre detto guardate che questo non è nulla paragonato al flusso che arriverà forte un domani se poi scoppia irac afghanistan siria e libia non ne parliamo perché la libia non riesce neanche più a tenere le orecchie a cui parlavi sono rimaste chiuse next question devi rispondere questa cosa posso rispondere ma mi interessava capire se non capivano se sono ignoranti se sono dice vabbè abbiamo capito però sarà un problema che verrà per quello dopo di me chi fa politica in italia ha un interesse politico italiano provinciale locale non riesce a capire che la politica italiana la punta delle scarpe forse esatto esatto e questo è di qualche temporale parte una gran parte perché io ho vissuto questi cinque anni in questo di qua vicino quindi ho vissuto si riferisce al parlamento quando mi riferisco al senato della repubblica più o meno diciamo a capire di politica estera e di difesa eravamo in 10 su 317 ma sto parlando di una grande cifra perché poi erano quelli che ascoltavano non